Domani è un giorno importante per tutti gli innamorati, che cosa si sente di dire in questo giorno? È un giorno meraviglioso perché l'amore esiste e tutta la gente, consiglio un bel consiglio, anche un piccolo gesto, un piccolo fiore, un piccolo bacio, se ami la persona regalalo, regalalo che è tanto contento, Bruno a me mi fa un bel bracciale domani, ci ho chiesto il bracciale e un fascio di rose costose. Signor Bruno, qual è il segreto di quest'unione così lunga, 53 anni insieme? Beh, è stata una lunga attesa, abbiamo dovuto sopportare 53 anni per arrivare al nostro sogno perché pensevamo sempre di sposarci, a me mi piace adesso con la Cirinna che ci ha aiutato, ha fatto di tutto per noi gay, sono felicissimo che ho sposato Orlando, almeno abbiamo i diritti, tutto quello che ci occorre a noi per la nostra vita, anche se uno sta male, l'altro lo può accudire all'ospedale, per la pensione, per la nostra casetta, per tutto, così è bello per tutti quanti i ragazzi gay, perciò vi dico, sposatevi, che è bello essere sposati. È la cosa più bella, guarda, l'amore deve essere, ci deve essere da tutte le persone perché siamo tutti uguali e noi oggi siamo felici, felici e inauguriamo a tutti i fidanzati, sia etero, sia etero, voletevi bene, domani San Valentino, anche mangiare una pizza insieme vale tanto, non è vero l'oro, le rose, cose, amatevi, amatevi e viva San Valentino e viva l'amore. 53 anni d'amore, ma c'è qualche piccolo difetto che proprio non sopporta? Di Bruno? Non sopporto che è disordinato, la mattina i calzini volano, le camicie volano, è disordinato, il resto andiamo sempre d'accordo, ci vogliamo bene. Non mi dice mai di te. No, sei disordinato, ieri ho trovato un calzino in bocca a un cane a casa, c'è proprio un cagnolino piccolo, non è ordinato, poi quando c'ha voglia lo fa, fa pure lui. Bruno si difende qualche suo difetto invece? No, io non lo posso dire perché difetti non ce n'ha, mi vuole bene, mi ama, mi accudisce, mi cucina e mi fa tutto quello che avrebbe fatto mia madre, perciò lo amo per questo, che è una persona stupenda, lavoratore, sistemato, ci vogliamo bene, 53 anni insieme, speriamo che la Madonna ci accompagna fino a 100 anni. Esagerato, non ce la faccio io, basta così, ci vogliamo bene, vivo l'amore, amatevi tutti quanti, amatevi e voletevi bene, c'è troppo odio in giro, buttiamolo via.